Questa settimana su YumiBio abbiamo parlato di cosmetici anti caduta e partiamo da uno dei cosmetici anti caduta più venduti sul nostro sito che è l'Air Tonic di Univa Cosmetics. Air Tonic è una lozione rinforzante che è stata formulata con degli attivi che vanno a stimolare il microcircolo cutaneo così da stimolare la crescita di capelli sani e forti. In questa lozione trovi anche degli ingredienti idratanti che vanno a migliorare la salute del cuoio capelluto così da contrastare irritazioni e mantenere il cuoio capelluto in generale più sano. All'interno di questo prodotto trovi ingredienti estratti dalla melanurca, trovi la caffeina, trovi estratti di rosmarino, estratti dell'albero delle farfalle che hanno la funzione appunto di migliorare il microcircolo cutaneo ma riescono anche a prolungare la fase di anagen che è la fase in cui crescono i capelli. Questo siero è stato arricchito con un ingrediente che ha un'attività idratante e regenerante che va quindi a migliorare l'idratazione dei bulbi piliferi e riesce a proteggere i capelli dall'inquinamento, dallo smog e dai raggi UV. La cosa particolare di questo ingrediente è che si lega alla cheratina che è presente sulla pelle e sui capelli quindi ha un'azione idratante che dura fino a 72 ore e aiuta a contrastare prurito e secchezza. In Airtonic trovi anche oli essenziali di eucalipto, rosmarino e mentolo che oltre a rendere i capelli più forti e più luminosi, oltre a proteggere da danni ambientali, hanno un'azione rinfrescante ed energizzante sul cuoio capelluto in modo da stimolare ancora di più il microcircolo. Questo prodotto si utilizza applicandolo direttamente sul cuoio capelluto, è sufficiente circa una pipetta di prodotto da distribuire poi sulle varie zone della testa, quindi applichi varie gocce sulle varie zone della testa, massaggi fino a completo assorbimento e non è necessario risciacquare, anzi se hai in programma di fare uno shampoo ti consiglio di aspettare almeno 6-8 ore dopo l'applicazione di Airtonic. Per risultati migliori ti consiglio di utilizzare Airtonic tutti i giorni per almeno un mese, anche se per risultati ottimali ti consiglio di completare il trattamento di 3 mesi.